Benvenuti, benvenuti a CrossFactor! Il terzo posto, con il collegio di Vene, non lo so scritto, ma non vorrei dire una sciocchezza, va? Al Sacro Cuore di Valenza! Evviva! 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 Il secondo premio va al coro del Centro Don Bosco! Oh, qui vicino, rosso il mio cammino, una luce sulla strada. Una voce nel silenzio sei per me. Il primo classificato di questa edizione 2014, The CrossFactor, premiano Monsignor Gallese e ovviamente il presidente della giuria, Monsignor Marasini. va al coro di Bassignana! Alleluia! 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 che si vota la festa, che finita la festa.